Inizialmente dovevano terminare lo scorso 21 maggio, poi la proroga al prossimo 16 luglio. Lavori Lumaca in via Circonvallazione a Torre del Greco, gli interventi che interessano il tratto di strada dall'intersezione con via Cappuccini via Beneduce all'intersezione con via Guglielmo Marconi per la posa di una nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano sono iniziati lo scorso 21 marzo. Un altro senso unico che ha creato e sta creando non pochi disagi alla viabilità, considerando che si tratta di una strada nevralgica per gli automobilisti torresi e non solo, con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino e sulla circolazione. Un provvedimento scattato nei mesi scorsi a seguito della richiesta avanzata dal dirigente del settore lavori pubblici per consentire agli operai della Italgas Reti lo scavo lungo per la posa di una nuova condotta interrata per la distribuzione del gas metano. Non sono mancate e non mancano le polemiche e le lamentele dei cittadini torresi.